Music Academy Ascoli, corsi di musica e canto per bambini, ragazzi e adulti di ogni età. Scegli il tuo corso preferito tra strumenti classici e moderni. Vieni a trovarci il 12 settembre 2014 dalle ore 11 alle ore 19 in occasione dell'Open Day. Prenota la tua prova gratuita allo 0736 34 34 04. Maggiori info su www.musicacademyascoli.it Music Academy Ascoli, dove vuoi arrivare con la tua musica?